22esima edizione della Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico, anche la città di Cava dei Tirreni presente ha un evento importante per Salerno e per la sua provincia ma non solo. Sì, un evento importante. Cava dei Tirreni credo abbia la possibilità di rappresentare insieme a tutta la forza di questo territorio un ulteriore elemento di grande attrazione per il territorio ed insieme al territorio. Noi dobbiamo crescere appunto nella offerta complessiva insieme e la Borsa ha questa grande qualità, far fare comunità partendo dal senso di identità di questo territorio ma con apertura di carattere internazionale. La nostra Abbazia Benedettina, il nostro Borgo Porticato che è un unicum in tutta la regione Campania possono rappresentare insieme a tante altre specificità, insieme al valore aggiunto che ogni città, ogni territorio può portare, una offerta complessiva di grande attenzione sul mercato del turismo internazionale. E quindi il nostro vuole essere un lavorare insieme e quindi complimenti agli organizzatori.